Fiorentini, sono il vostro Amerigo Vespucci. Sì, lo so che sono morto da 500 anni, non importa che me lo ricordiate. Io non ho capito se l'America l'ho scoperta io o Colombo, a parte che lui credeva di essere arrivato in India. Che bischeraccio! Però una cosa la so, ho sempre tifato Fiorentina, fin dai tempi in cui la squadra non esisteva nemmeno. Oh, chi si vede in Curva Chiesole? A proposito, ma avete intestato un ponte? Ma un bel abbonamento allo stadio, no? Bevete con la testa! Grazie! 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 Grazie!